Dalla didattica a distanza alla scuola in presenza, ma tutto dipenderà dai contagi, ancora una volta cambiano le regole della scuola entro la settimana, arriverà via libera le indicazioni per la gestione del covid negli istituti scolastici, anche in vista di un possibile proseguimento dello stato di emergenza, che sarà probabilmente prorogato fino al 31 marzo 2022, senza il quale la DAD verrebbe meno. È così in arrivo il documento ufficiale redatto dal Ministero della Salute e dell'Istruzione, con il contributo delle regioni in merito alla gestione della quarantena. Le nuove indicazioni prevedono che non venga istituita la DAD se c'è un solo positivo in classe, se sono due è prevista una quarantena selettiva, a seconda del fatto che si sia vaccinati o meno. Se invece i casi positivi sono almeno tre, tutta la classe resta a casa e quindi finisce in DAD. Il documento mira quindi a salvaguardare il più possibile l'anno scolastico in presenza, ma in caso di contagi e ricorso alla didattica a distanza verrà calibrato e si darà peso a test e tracciamento. Valgono il molecolare, quello rapido, comprelievo, salivare e analisi molecolare da effettuarsi il prima possibile e dopo cinque giorni, oltre che al termine dell'eventuale quarantena. Nello specifico, nel momento in cui si verifica un contagio e l'ASD non può intervenire, sarà sempre compito del dirigente scolastico sospendere in modo temporaneo le attività didattiche ed avviare le misure del protocollo. Il provvedimento riguarda gli insegnanti e le famiglie degli alunni che sono stati a contatto con il caso confermato 48 ore prima della comparsa dei sintomi o dell'esecuzione del test, qualora si tratti di un soggetto asintomatico. Solo in un secondo momento interverrà l'ASD alla quale toccherà l'ultima parola per l'individuazione dei contatti stretti e non. Le nuove regole dividono anche gli stessi cittadini. Non d'accordo perché, secondo me, anche con un positivo la quarantena bisogna farla, perché è pericoloso un positivo come tre. Quindi sulla didattica da istanza d'accordo oppure no? No, ma anche perché, infatti anche io non vado più a scuola, però vedo comunque che è difficile comunque farla, anche per seguire bene le lezioni e tutto. Solo positivo mi sembra un pochino assurdo fargli fare tutti la DAD, perché quella persona fa il tampone, faranno il tampone anche gli altri, poi se sono tutti negativi vanno a scuola e se lui è positivo starà a casa lui. Nel senso fargli andare tutti a casa per un solo positivo sembra un po' troppo. Anche perché la DAD ha penalizzato molto gli studenti, insomma. Anche per loro, perché stare a casa, studiare da casa, perdi anche magari quell'opportunità di stare insieme, di integrarsi, di scambiarsi le opinioni anche su degli argomenti scolastici, così. Un po' relativo, nel senso che secondo me sarebbe molto utile poter fare i tamponi a tutta la classe in maniera che così sapresti chi mettere in quarantena e chi invece no. Però, non lo so, è un po' difficile in questa situazione dare proprio un parere o bianco o nero, ecco. Sì, penso la stessa cosa, si dovrebbero fare i tamponi, secondo me sempre, soprattutto gratis per i bambini e per i genitori, però ovviamente è difficile anche per il governo essere disponibili sempre per tutti. Il governo però dice che con un solo positivo la classe non va più in DAD, secondo lei questo è giusto? Secondo me non è giusto perché ovviamente il positivo può contagiare tutti gli altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.